La convergenza fra Pesaro, capitale della cultura, e Pesaro, terra di piloti e motori, crea la naturale collocazione per portare in città l'Asishow, con tre giorni dedicate ad un secolo di storia dei motori, organizzato dall'Automotoclub storico italiano. Dal 18 al 20 ottobre, tre giorni fra veicoli in mostra e approfondimenti presentati oggi dalla stessa Asi all'Hotel Alexander. Noi siamo legatissimi alla città di Pesaro, ormai da tantissimo tempo. Come sapete, una collezione di nostra proprietà, la collezione Morbidelli, è conservata e tutelata qua a Pesaro, quindi noi siamo felici di questo legame stretto con la città, stretto da un legame culturale, perché per noi i veicoli storici sono cultura. In occasione di questa fantastica opportunità per Pesaro di essere capitale della cultura, abbiamo voluto creare un evento in cui non solo visiteremo con quel turismo lento che è dedicato e per cui i veicoli storici sono particolarmente adatti, quindi un turismo esperienziale che andrà a visitare le eccellenze di questo territorio, anche una sfidata che verrà fatta domenica mattina, in cui sfideranno la storia della locomozione del Novecento, tanti veicoli che sono espressione diversa di quella che è stata un'eccellenza italiana, dalle biciclette ai camion, autobus, mezzi di pronto soccorso, chiaramente auto, moto e quant'altro. Per cui sarà uno spettacolo che io spero è gradevole.